Vorrei estendervi i miei saluti ed invitarvi ad un evento veramente speciale dedicato alle professioni sanitarie e dai fratelli di chiesa in Europa alla Conferenza Europea sulla Salute che si terrà a Praga dal 29 aprile al 4 maggio di quest'anno. Questa conferenza di professionisti è sponsorizzata dal Dipartimento della Salute della Conferenza Generale con le tre divisioni della Chiesa Adventista del settimo giorno, quella inter-europea, trans-europea ed euro-asiatica. Il tema della conferenza è la guarigione, percezioni, aspettative e fatti ed un'esplorazione per mezzo della scienza, della fede e della cultura. Il programma offre una completa serie di argomenti presentati in sessioni plenarie e seminari con più argomenti e formazione pratica disponibile durante i laboratori pomeridiani. Alcuni degli argomenti che toccheremo in queste giornate saranno fattori genetici e la guarigione, lo stile di vita e la guarigione, la non cura e la guarigione, emozioni, malattie e guarigione, guarigione e scienza medica, fede e guarigione. Come potete vedere questa conferenza è centrata sul tema della guarigione e quanto di più appropriato come seguaci di Cristo, il gran medico, che noi partecipiamo ed invitiamo le persone in questo ministero di guarigione focalizzandoci su questo grandioso argomento. Alcuni dei relatori saranno il dottor Alan Handyside, il dottor Peter Lenses, il dottor Gary Fraser, il dottor Winston Craig, il dottor Gary Hopkins, il dottor Dwayne McGribe e il sottoscritto e molti altri. Spero di vederti alla conferenza europea sulla salute in Praga, in Repubblica cieca, dal 29 aprile al 4 maggio 2013. Che il Signore continui a benedirti grandemente, mentre offri guarigione e speranza agli individui le cui vite tocchi ogni giorno. Per mezzo della grazia divina, sii veramente un medico missionario che segue le orme del gran medico Gesù Cristo. Che il Signore ti benedica ogni giorno. Maranata. 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 Grazie.